direttamente a casa o dove ti porta la tua musica vai su mcdonalds.it e scopri come riceverlo fino al 20 ottobre la consegna è a un... avere il tuo menu preferito da un euro è arrivato il sottocosto il samsung galaxy s10 lite con tripla fotocamera professionale e tuo a solo 399 euro fino al 18 ottobre un euro batte forte sempre non, non, non... questo è o dove ti porta la tua musica vai su mcdonalds.it e scopri come riceverlo fino al 20 ottobre la consegna è a 1 euro